E' bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono Marco Ok, oggi Non mi posso mettere più di così Se ma si bagna il tablet E poi sono veramente fottuto A parte il fatto che Il tablet mi ha individuato 13 virus Si era tolto l'audio Ripartito l'audio Poi ci manca soltanto la pioggia che lo bagna Siamo proprio a posto Non potrei fare più video Ora sono sotto la grumbaia Ora sto zitto, sentite se piove Zitta stella Si sente? Che ragazzi Ora vi porto a visitare le nostre camere Se non ne ho il campanello Non mi vedo bene Troppa luce Ok Zitta Ok, questa è la camera di mia sorella Doppio letto Coperta di Dragon Ball Coperta delle principese Quell'armadio che ci ha attaccato tantissimi disegni Armadio quello che ci sa la roba Ok Ok Uno Guardiamo E' sapisi Guardiamo La Nostra camera con la mia Di mio fratello Guardate 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 Questa è la mia scaruccia Ok E' stati zitta Mi ho la luce anche qui Ok E andiamo qui Se accendiamo la luce Si Ok Questo è il letto Di mia madre Di mio padre Perfetto Ok E' stati zitta Un attimo Sto facendo il video Ok Questo è l'armadio Guarda a vedere dietro L'armadio Ok Questo è dietro Dell'armadio Se sentite Un po' Apri la voce Ok 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 ragazzi Il video si conclude qui Noi ci vediamo Alla prossima Bella raga